Sì, è un crimine particolarmente odioso e quindi al netto del fatto che dobbiamo perseguire qualunque forma di reato in maniera decisa, in questo caso c'erano delle motivazioni particolari per essere incisivi nell'attività investigativa. Fa un danno incredibile perché oltre a danneggiare gravemente il Servizio Sanitario Nazionale, danneggia anche il malato, il soggetto debole, perché non vi è più la disponibilità immediata del farmaco, quindi questo può anche compromettere le aspettative di vita di un malato. Era il 12 febbraio dell'anno scorso quando l'ospedale maggiore di Trieste subì il furto di un ingente quantitativo di farmaci oncologici per un valore di quasi 400 mila euro. Dopo lunghe e complesse indagini di polizia e carabinieri, coordinati dal procuratore della Repubblica Federico Frezza, sono stati arrestati a Napoli e Melito quattro pregiudicati campani, tre uomini e una donna fra i 39 e i 64 anni, ritenuti responsabili di questo e di numerosi altri furti in tutta Italia. Il traffico di farmaci aveva dimensioni internazionali. L'indagine della Procura della Repubblica di Trieste, complessa e partita da pochi fotogrammi delle telecamere di sorveglianza, si è incrociata con quella di Cremona, dove è stata scoperta una centrale di ricettazione di farmaci, gestita da cittadini egiziani, che acquistavano l'area furtiva e la spedivano nel paese africano, in Turchia e in Francia. I medicinali sarebbero stati rivenduti a un decimo del loro valore. I guadagni sono irrisori rispetto al danno notevole in gente, parliamo qui in questo caso di 400 mila euro circa. Possiamo dire che questa città ha una infrastruttura di sicurezza, se posso definirla così, che ha consentito agli investigatori di fare poi questa attività alla Pollicino ed arrivare fino alla soluzione del caso. I tre esecutori arrivati a Trieste a bordo di una Fiat Punto, mentre uno di essi attendeva in auto, sono entrati nella farmacia dell'ospedale Maggiore e coperti con passamontagna hanno portato via 291 confezioni di farmaci oncologici. I tre hanno poi fatto tappa a Moggio Udinese, nell'abitazione di un conoscente risultato ignaro, dove hanno lasciato la sacca con gli attrezzi da scasso. Altri accertamenti sono in corso per verificare se la banda abbia messo a segno altri furti di farmaci avvenuti nella città di Trieste.